Allo, buongiorno a tutti, siamo, per il po' appassionati di calcio la riconosceranno, è l'Allianz Arena del Bayern Monaco perché siamo qui a Monaco per l'Ottoberfest e quindi perché non fare una puntatina speciale di Simpatia, portami via! Simpatia, portami via, simpatia, portami via, simpatia, portami via, simpatia, portami via! Sì, via Mercedes sono stati, erano molto compatti, soprattutto, ah non scusate, non sono attivistato, e adesso vi dirò le battute che brutte che mi sono avute in mente qua a Monaco, andiamo in campo! Avevo pensato di trovare tutti, ma non il mio amico di Radio DJ, Roberto Ferrari, no, non Sergio, Roberto Ferrari! Sì, ma... che maravone, eh! Eh, Niccolò al naso! Beh, per forza sei pieno di mucco! Ok, adesso seguitemi! Cos'ho fatto? Sono andato a tutta birra! Sì, non ci dà comprare qualcosa! Qua non si può comprare niente, è troppo caro! Scusa, ti levi? Sì! Ah, ecco! Porca vacca! E voilà, anche per oggi abbiamo finito, oggi non c'è, ma quanto siete simpatici, che tornerà settimana prossima! Se avete una battuta brutta, filmatevi, la mandate a compagnia dello scatolone, chiaccia la gmail.com, e la mettiamo alla prossima puntata! Da Monaco è tutto, a voi la linea! E c'è l'esplazione... Sempatico!